Ciao a tutti, sono Adriano Simonini e sono qua a nome dell'Ampi e dell'Arci Casba di Pegognaga per presentarvi l'iniziativa che faremo questo 25 aprile. L'iniziativa è una grigliata, è una grigliata antifascista e l'abbiamo cercata di fare noi come giovani dell'Ampi perché da alcuni anni un gruppo di giovani ha cercato di prendere in mano questa associazione, questa associazione stava sparendo perché ormai stavano sparendo gli ultimi partisani, abbiamo cercato di prenderla in mano e di riempire questo contenitore che si stava svuotando di nuovi contenuti. I contenuti sono l'antifascismo, la solidarietà, la libertà che hanno caratterizzato il movimento del 25 aprile. Abbiamo pensato di fare la grigliata, una cosa giovanile, proprio per ricollocare questi nuovi valori tra i giovani, prendendo semplicemente uno spazio di aggregazione, un momento di aggregazione che va dal di là dei discorsi ampi o storici ma che ricollochi determinati valori in un momento che sia solo di socializzazione. Questo è stato il tentativo che abbiamo cercato di fare. Speriamo che venga bene, siete tutti invitati. Ciao a tutti, sono Cristian, faccio parte del consiglio di amministrazione della Casba, siete tutti invitati a partecipare il 25 aprile, il ritrovo sarà alle ore 17.30, sarà accompagnato da musica più concerto e la brigliata inizierà alle ore 19.30. Le prenotazioni si chiuderanno venerdì, il costo della brigliata sarà 6 euro. Per maggiori informazioni visitate il sito www.cashbaclub.it. Ciao a tutti! Grazie a tutti!